ciao a tutti ragazzi e benvenuti non avevo un video ma ragazzi scusate io ho fatto un video dove aprivo 30 box e una enorme con 8 oggettoni scusate no 32 case avevo aperto e ho trovato questo carlo magnifico ma però scusate ragazzi per sbaglio ho tagliato il video scusate ragazzi ragazzi per farmi scusare farò 50 box gratuite che ne dite ragazzi ragazzi se ancora non vi siete iscritti al canale lasciate like e condividete il video faremo qualche partita con carlo in duo ok aspettate ma quanti messaggi mi arrivano va bene devo stare dove vai a prendere quello brocchino vabbè vabbè ma quanti basta ma quanti messaggini mi arrivano che vuoi broc ma che vuoi broc ma che vuoi no brocchino no brocchino no brocchino no brocchino no brocchino no brocchino sei il mio broccolo che devo mangiarti quanti ragazzi raga due power up voglio ammazzare questa qua dai ti prego vieni guarda pappino da lui ragazzi non ci credo ma dove è mio amico amico eccolo la amico amico vuoi essere team vuoi fare team 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 ok scusa 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 mi si mi